Musica Si riunisce a Bruxelles il Comitato Europeo delle Regioni, il no secco della Toscana, all'etichetta sanitaria sui vini. Sangue calano del 4,5% le donazioni Fratres Toscana nelle farmacie della Regione per cercare nuovi donatori. Ricerca premiate a Palazzo del Pegaso le 5 tesi innovative selezionate dalla Fondazione Salvini. Formazione polizie locali stop all'esclusiva attività diversificate in base alle esigenze dei territori. Un messaggio chiaro al Comitato Europeo delle Regioni per assicurare l'impegno toscano a favore della riduzione dell'uso dei pesticidi e della rimozione dell'amianto, ma anche per affermare con forza il no secco della nostra Regione alla proposta irlandese di apporre un'etichetta sanitaria sui vini. Sono questi i temi al centro della trasferta a Bruxelles del Presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo, in occasione della riunione del Comitato Europeo delle Regioni, l'ente che rappresenta gli enti locali e regionali di tutta l'Unione Europea e che è incaricato di fornire consulenze in merito alle nuove leggi con impatto sui territori. In questi due giorni abbiamo trattato tante questioni che riguardano la vita delle cittadine e dei cittadini della nostra Regione, della Toscana. Abbiamo discusso relativamente agli affitti brevi in modo da poter offrire regole più chiare e maggiore trasparenza. E poi abbiamo definito una iniziativa tesa a ridurre l'uso di pesticidi in agricoltura in modo da sostenere le api che sono fondamentali nel nostro ecosistema. E infine la necessità di lavorare perché venga rimosso dovunque in tutta Europa l'amianto. E noi su questo come Toscana avevamo già iniziato a lavorare con un'apposita regge regionale. Infine l'impegno che mi prendo, e questo per una Regione come la nostra è fondamentale, è che nella prossima sessione plenaria si discuta e si dica che siamo contrari all'etichetta sanitaria sui vini proposti dall'Irlanda. Siamo contrari perché questo è un modo sostanzialmente per toccare il nostro tessuto produttivo, la qualità delle nostre produzioni. E credo che ognuno di noi debba fare una battaglia perché resti anche in questo caso dalla parte giusta della storia, quella a sostegno di chi produce e di chi investe sui nostri territori. Le farmacie toscane in prima fila nella ricerca di nuovi donatori. E' questo l'obiettivo della nuova campagna di Fratres Toscana, sostenuta dal Consiglio della Regione. L'associazione, composta da oltre mille volontari, è impegnata da più di 50 anni nella promozione della donazione del sangue. Solo nel 2022 ha registrato oltre 62 mila donazioni, garantite da 40 mila donatori. Un buon risultato che però potrebbe non essere sufficiente a scongiurare il ripetersi della crisi che ha investito la nostra regione e il paese tutto a seguito del calo generalizzato delle donazioni. Di qui il lancio della campagna Donare Sangue, la ricetta della felicità attraverso le farmacie della regione che saranno impegnate a consegnare medicinali in sacchetti di carta targati Fratres con l'obiettivo di sensibilizzare e raggiungere nuovi potenziali donatori. Abbiamo voluto tentare sulle farmacie, cioè in questi luoghi che comunque sono frequentati da numerosissime persone e molte delle quali magari anche sensibili a questo argomento che è la carenza appunto del sangue come abbiamo registrato soprattutto nell'anno 2022. E quindi nell'intento di cercare di prevenire quello che l'anno scorso è stato un brutto momento per la grossa carenza delle donazioni, ecco che abbiamo messo in campo da qualche giorno a questa parte questa nuova campagna. La carenza dell'anno scorso che era stata una carenza di donazioni su tutto il territorio nazionale ha messo in crisi il sistema trasfusionale e quindi comunque il sistema sanitario perché non era neanche facilmente reperibile il sangue dalle altre regioni. Quindi proprio per cercare di non rivivere i momenti critici dell'anno scorso siamo cercati di partire con delle campagne per poter sensibilizzare le persone a diventare donatori. Dopo la flessione del 4,5% delle donazioni in Toscana riconducibile principalmente all'emergenza pandemica il Consiglio regionale ha deciso di attivarsi per dare maggiore visibilità alla campagna di Fratres. La Toscana è una terra che non si è mai voltata all'altra parte, così i suoi cittadini. Credo però sia importante ancora di più in questo momento mandare un messaggio forte insieme a Fratres dire che donare sangue vuol dire donare vita e chiedere a ognuno dei cittadini della Toscana che può farlo di fare la propria parte. È importante ancora di più in questo tempo e credo che le istituzioni debbano avere anche il compito di sensibilizzare in questa direzione. Un ruolo strategico è quello di Fratres e delle altre associazioni di volontariato sostenuto anche dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale. Quest'iniziativa di Fratres oggi è un'iniziativa fondamentale perché appunto la Fratres come le altre associazioni hanno un ruolo di andare a cercare i donatori, a parlare con ognuno di noi con i ragazzi più giovani anche in vista delle future donazioni, con le famiglie, con le scuole per far capire anche con piccoli gesti, anche quando si compra il pane, anche quando appunto si va in farmacia ora a comprare un farmaco, ricordarsi poi che con un piccolo gesto si può aiutare le persone quando stanno male, il sistema sanitario a funzionare, la produzione di farmaci importanti per la salute di tutti noi. Quindi veramente è una scelta che ognuno di noi ha e che le associazioni ci ricordano di poter fare e che serve a tutto il sistema sanitario. Tutte le informazioni sulla campagna e sulle donazioni all'indirizzo www.fratres.toscana.it Sono stati festeggiati a Palazzo del Pegaso, alla presenza dei rappresentanti del Consiglio regionale, i cinque giovani studenti insegnati del premio Tesi di laurea da contenuti innovativi inerenti alla neuro-riabilitazione assegnato dalla Fondazione Gianfranco Salvini. L'ente, impegnato nella promozione della ricerca e nel trasferimento delle conoscenze in ambito riabilitativo, ha individuato cinque vincitori e sei tesi meritevoli di segnalazione per il loro contenuto scientifico fortemente innovativo. Un impegno sostenuto e condiviso dal Consiglio della Regione Toscana. La Fondazione in questo caso premia quei ragazzi che hanno fatto ricerca, quelle persone che hanno fatto ricerca e che sono riusciti a trasferire parte di questa ricerca sull'attività, in questo caso di riabilitazione. Quindi una finalità assolutamente in linea con quelle che sono della Regione tutta e in genere del mantenimento e anzi dell'elevazione del sistema di qualità del sistema sanitario toscano. Tra l'altro viene proprio una settimana dall'approvazione della nuova riforma sugli IRCS che ci permetterà di avere e rafforzare in grandi istituzioni toscane come Meier e speriamo anche la Fondazione Monasterio l'attività di ricerca in maniera più istituzionale e strutturata. Un premio che la Fondazione Salvini ha istituito con un obiettivo ben preciso. La Fondazione Gianfranco Salvini dopo aver promosso una serie di progetti estremamente importanti in campo riabilitativo ha deciso due anni fa di dedicarsi proprio ad incentivare la ricerca per i giovani, cercando anche di investire le risorse che la Fondazione ha a disposizione per favorire proprio la ricerca. Per favorire la ricerca e per favorire quelle che sono le buone idee che nell'ambito della neuro-reabilitazione possono nascere dagli studi, dalle tesi fatte dai ragazzi. E allora ascoltiamo dalla viva voce dei ricercatori premiati quali sono i contenuti delle loro tesi. La tesi che mi ha portato alla vittoria di questo premio riguarda l'utilizzo di una tecnologia a base di sensori inerziali applicata alla valutazione del paziente con ictus. Quello che ho fatto è stato appunto aggiungere questa tecnologia alla valutazione di questi pazienti e ci ha permesso di avere dei dati in più per valutare una di quelle attività più frequenti della vita quotidiana che è appunto il turning, la capacità di girare del paziente e questi sensori appunto ci hanno dato dei dati in più per valutare fattori di rischio, di caduta e altro e ci hanno permesso appunto di avere un follow-up del paziente migliore. L'oggetto della tesi è la sindrome di Rett, che è un raro disordine del neurosviluppo che ha un'incidenza di 1 su 10.000 nate vive. Questo studio è stato svolto in collaborazione con l'ACS Lazio in quanto sono stati appunto utilizzati i cani da salvataggio di questa associazione e l'obiettivo dello studio è stato quello di dimostrare come l'attività assistita con i cani da salvataggio svolta in acqua potesse essere un valido strumento di supporto a quelle che sono le terapie tradizionali. Io sono logopedista, lavoro con la disfaggia infantile, quindi con la difficoltà di deglutizione nell'età evolutiva, quindi nei bambini, preferibilmente. Ho fatto la tesi sulla SMA, che è una malattia genetica rara e è l'atrofia muscolare spinale di cui si sa molto poco. Ho elaborato un protocollo di valutazione della deglutizione in modo da aiutare sia i bambini sia le famiglie in generale per una presa in carico e una migliore qualità di vita. La mia tesi della laurea triennale ha riguardato l'utilizzo di realtà aumentata nei pazienti con stroke presso l'unità di stroke unit delle scotte di Siena e con questa tesi ho utilizzato un visore Microsoft HoloLens che permetteva di aggiungere degli ologrammi alla realtà circostante e con questo studio sono riuscita a dimostrare come una migliore partecipazione attiva del paziente all'interno del proprio percorso di recupero favorisce non solo un miglior recupero motorio ma anche una riduzione dei tempi di ricovero. La mia tesi aveva come obiettivo quella di individuare, di verificare la fattibilità e la sicurezza dell'utilizzo di stimolazioni uditive ritmiche nel trattamento di persone con malattia di Parkinson in un contesto però di teleriabilitazione dato la recente pandemia da Covid-19 e dato il fatto che la letteratura ultimamente sta spingendo molto sull'utilizzo di tecniche di trattamento hands-off rispetto a quelle invece che richiedono il tocco terapeutico. La volontà del Consiglio regionale di supportare il riconoscimento assegnato dalla Fondazione ha un significato molto chiaro. Significa che abbiamo centrato l'obiettivo quello di creare una cultura dopo di noi dopo le persone che in questo momento si stanno impegnando in questo ambito davvero importante della neuro-reabilitazione significa investire sui giovani, significa che le istituzioni accompagnano i giovani in un percorso che non solo è quello di ricerca ma di investimento su se stessi e sul nostro futuro. Un premio, quello assegnato dalla Fondazione Salvini che valorizza le tesi sperimentali sempre più numerose negli ultimi anni. Hanno portato molto perché abbiamo visto negli ultimi anni il passaggio da tesi sostanzialmente di tipo compilativo e aneddotico a tesi con impostazione scientifica che inevitabilmente attraino dell'innovazione nell'ambito delle neuroscienze. Oltre ai cinque premiati la Fondazione ha segnalato i lavori di Martina Cristinziano dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, Gaia Scaccabarozzi dell'Università degli Studi di Milano, Ludovica Dalle Corde dell'Università degli Studi di Padova, Diego Piatti dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, Angela Maria Politi dell'Università degli Studi di Siena e Silvia Salvalaggio dell'Università degli Studi di Padova. Niente più esclusiva per i corsi di formazione delle polizie locali della Toscana. D'ora in avanti l'offerta potrà essere diversificata sulla base delle attività di interesse che verranno individuate annualmente per meglio aderire alle esigenze dei territori. Lo ha deciso il Consiglio regionale che ha approvato la nuova legge al termine dell'Iter in Commissione Affari Istituzionali. Nella prima commissione che presiedo da molto tempo si è affrontato il tema della formazione della Polizia Municipale e lo si è fatto attraverso due leggi che si sono succedute nel tempo. Una prima legge che prevedeva il recesso della Regione Toscana dalla Fondazione Interregionale di Modena per la formazione della Polizia Municipale. A seguito delle proteste legittime che sono state avanzate anche da parte delle associazioni sindacali della Polizia Locale quella legge è stata ritirata, quella proposta di legge è stata ritirata è stata sostituita da una nuova proposta di legge che ora è diventata legge e che stabilisce quindi che non vi sia più il recesso da parte della Regione Toscana rispetto alla Fondazione di Modena ma che la formazione della Polizia Municipale non sia più affidata in via esclusiva alla Fondazione ma possa essere diversificata. Quindi ogni anno la Giunta regionale stabilirà quali sono le priorità della formazione che intende perseguire stanzierà le relative risorse, tutti i comuni potranno attingere a queste risorse compartecipando per un massimo del 20% secondo le proprie esigenze di carattere formativo quindi tutti i comuni sanno che potranno far sì che la Polizia Municipale, la Polizia Locale possa essere adeguatamente formata, fatto con l'ausilio della Regione Toscana e con un piccolo contributo da parte dei comuni. La nuova norma è stata approvata a maggioranza con l'astenzione di Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Toscana domani. Mancava il secondo pezzo perché mancava il pezzo in cui dicevamo che non ci servivamo più della scuola di Modena perché ne facevamo una in Toscana e invece a quello che abbiamo capito dal Presidente Gianni ancora nonostante la direzione vuole essere questa ancora la Toscana non è pronta ad avere una sua scuola. Noi crediamo invece che questa sia la soluzione, cioè non più una scuola interregionale ma una scuola toscana questo per almeno quattro motivi. Il primo, i fondi che arrivano dal Governo per la formazione di agenti di Polizia Municipale restano in Toscana e non vengono girati come accade ad oggi pari pari ad altre regioni. Due, i formatori e gli istruttori, gran parte dei formatori, la stragrande maggioranza dei formatori e degli istruttori che oggi lavorano nella scuola di Modena sono toscani quindi potremmo utilizzare il nostro know-how in casa nostra. Terza, una scuola di formazione toscana può dare un'uniformità di formazione migliore che non una scuola che forma agenti provenienti da tre regioni differente. Quarta e ultimo punto perché così ci possiamo concentrare a formare gli agenti di Polizia Municipale sui temi che sono più caldi in Toscana. Per questa edizione è tutto. Potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute in Toscana.